Oggi vediamo questo gioco, si chiama Start Survey, se volete guardarlo andatelo subito a guardare. Cari commenti sondaggi ragazzi, questo gioco sa dove abiti, cioè devi rispondere a delle domande inglesi, non so niente d'inglese, io so solo le law, what's your name, what's your name, what's your name, so solo queste cose, non so niente. Io so, ok, aspettate, si è caricato, assicuratevi di alzare il volume, per quale motivo? Ok, succedono già le cose strane ragazzi, ok, si sta caricando? Ok, inizia il sondaggio, si, inizia il sondaggio, non ho niente. Stai passando una bella giornata? Eh, sì, naturalmente. L'8 di mattina? Cioè le 8 di mattina. Hai molte responsabilità? No, non ho molte responsabilità. Guardati intorno un momento. Conosci l'ambiente circostante? Ehm, no, non lo conosco ancora. Stampa. Vabbè, sai dove ti trovi? Sì, so dove mi trovo. Perché sono la feglie? Hai mai avuto un attacco di panico? Ehm, no, non penso che ho avuto un attacco di panico, ma me lo fai ora il panico? Ti, ma ma che vuoi? Ti trovi a mettere in discussione la tua esistenza? Per quale motivo? Ho visto qualcosa di strano. Ehm, sono solo io? Ok, bene. Credi che ci sia un dio? In che senso? Io, ehm, sì. Non so cosa... Stai rispondendo a queste domande per libero arbitro? Ehm... Arbitrio. Arbitrio. Ehm... No, non lo so. Are you certain? Vuol dire no. Perché ti senti a tuo agio nella tua stanza? Ma ora io non sono nella mia stanza. Che diavolo dici? La parte chiusa... No, perché? Se le luci si spegneressero... Saresti spaventato? No. Ti sei mai chiesto quando vorrai? Hai pulito la tua scrivania ultimamente? Ma io non ho una scrivania. Ce la vorrò tanto da qua. Apri la cartella sulla tua scrivania. Per quale motivo? Cosa? È vero? Sì, sono italiano. Come fai il suo bello? Che so, internet. Ma Roblox è internet. Come fai a giugno a queste domande? Non hai... Non hai dei nemici? No, no, no. Sto capendo cosa stai dicendo. Sei prov... Sei improvvisamente... Non pensi qualcuno dovrebbe... Accertarti? Sì. Può essere. No. Vabbè. Se non l'assi qualcuno sentirebbe... Aspettate. Facciamo sì. Sì. Conosce la persona che stai... Sta dietro di te? Sì. Raga, io esco da sto gioco. Mi ha preso un colpo di vita. Ok, allora. Raghi. Io ho visto una persona in questo gioco. E non c'era nessuno nel gioco, ragazzi. Vediamo quante persone sono riconnesse al gioco. Perché mi sono veramente spaventato. Ma chi era quella persona, raghi? Ora andiamo a vedere quante persone. OMG. Oh mio Dio. Raghi, io ho paura. Ragazzi, io ho paura. C'è sto gioco è un demonio. È un demonio. È un demonio. C'è ragazzi. Allora. Qua ragazzi, io mi sto confondendo. C'era... Ci sono tanti giochi diversi. Ma... Questo è veramente inquietante. È inquietantissimo. Ok, questo qua non so se è sempre di uno. Andiamo a vedere. Questo qua sarà diverso. Penso. Sarà diverso. No, sempre una persona. Proviamolo ma senza... Dei cosi orrori. Ok, allora. Stiamo provando il gioco. In attesa di un nuovo server disponibile. Nuovo tentativo. Ok, aspettiamo. Quale sia il server? Oh my God. Che riguarda risolta e salta. Ok. È tutto normale il gioco. Inizia il sondaggio. Sì. Eh... Comunque. Quindi, per favore, sii onesto. Il sondaggio inizierà. Ok, dai. Adesso. Vabbè. Stai passando una giornata bella oggi. Sì? Perché? Non c'erano. Sì. Ossì, l'ambiente circostanza. No. Non c'erano. Ok ragazzi Questo l'ho provato Mi sto facendo già paura Comunque Non mi piace tanto il gioco Sei in una camera Solo Sempre solo sei Non sei con amici C'è ragazzi guardate Soli Voi soli C'è ragazzi Io per oggi smetto qua Guardate Ora ve lo faccio anche vedere C'è ragazzi Una Una persona Uno di uno Uno C'è ragazzi avete capito Il motivo Avete capito Vabbè ragazzi Per oggi smettiamo qua Mi sono preso un colpo Colpo di sonno Un colpo di vita Ciao Un colpo di Di paura Diciamo Non sono svenuto Sono sempre qua Comunque Un giorno Non ho mai provato Sto gioco Si chiama Start Surway Che vuol dire Inizio sondaggio E li chiederei No Ok ragazzi Esistono dei giochi brutti Anche su Roblox Ci sentiamo per un nuovo video Ciao